Per me è un onore rappresentare questa città qua, è una città magica e stiamo cercando di costruire un gruppo bellissimo e faremo di tutto per rappresentare al meglio questa bellissima città. Non vedo l'ora di iniziare questa stagione, il gruppo sembra veramente buono, i ragazzi sono super e siamo impazienti di iniziare la stagione con voi. è un'amplice, il città è molto grande, la persone sono superi, sono molto amici, è un'onore di essere e venice, stiamo cercando di fare qualcosa di speciale e vi faccio un'amplice questa stagione e vi faccio un'amplice per la prima volta in Europa, ho già sentito che abbiamo un squad con un'energia, quindi ho sentito molto a quello che ci mangia per noi. Sono fortunato ad essere considerato un veterano, ma sono proprio un'amplice per la mia esperienza e cercare tutti i suoi comitamenti. Il mio primo film con la città è molto bello, molto culturato, molto ansioso, quindi sono molto felice di andare qui e di imparare la città. La prima impressione di questo gruppo è positiva, i ragazzi li vedo disponibili e soprattutto carichi per ricominciare questa nuova stagione. Quindi rimucchiamoci le maniche, la stagione sarà lunga ma sicuramente vogliamo creare una chimica di squadra forte, coesa e che possa dare grandi soddisfazioni a questa nuova regola. Un'altra parola solo, chemistria. Abbiamo chemistria, abbiamo un successo per l'Europa. Se avessi chiesto una parola per descrivere la Venice, la descriveria come bellissima. Quindi è molto bello, sono grandi persone qui, una bellissima architettura. Sono felice di essere qui, per sicuramente. Venite a vedere questa squadra perché siamo tutti simpaticissimi e siamo vogliosi di giocare.